Buongiorno a tutti Mi sono arrivati i risultati del test Che abbiamo fatto l'altra volta Ancora Mi sono arrivati alle 8.39 Ma non me ne sono accorto Beh Mi sono accorto adesso che sono arrivato Mi fa sperare bene Vabbè andiamo a vedere Ok new message Read Your His result is negative Bene Ci rivediamo a settembre con Anima della nostra infanzia E Gimplotti Vi auguro una buona giornata E ci vediamo presto Ciao 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 Grazie a tutti.